Ma ti sei mai chiesto perché i corrieri hanno tutti sti nomi strani? Mi auguro vivamente di no, sappilo. Io queste domande me le faccio ogni giorno invece. Sì, non sto bene. Non sto bene. Iniziamo che è meglio, va? SDA è l'acronimo di Speditori Destinatari Autorizzati. Facile e pulito. GLS, General Logistics Systems. GLS, giusto. DHL sono gli iniziali dei cognomi dei fondatori, ovvero Adrian Dasley, Larry Hilblom e Robert Lin. Un applauso per loro. FedEx è un'abbreviazione sillabica del nome originale della compagnia, ovvero Federal Express. Abbreviazione sillabica. Lessico di livello, eh? Occhio, d'altronde qua si studia. UBS, United Parcel Service. Pronuncia inglese come sempre al top, ma vediamo l'ultima. TNT, no, non è una bomba. Significa Thomas Nationwide Transport. Riferito a Ken Thomas, il fondatore dell'azienda. Grandissimo Ken. Lo sapevi o non lo sapevi?